Ieri abbiamo saputo e oggi abbiamo avuto la conferma ufficiale che nella proposta dell'amministrazione provinciale che verrà avanzata la regione c'è di nuovo l'accorpamento del Battisti con il Polo 3, quindi tutto quello che abbiamo fatto fino adesso sembrerebbe essere stato del tutto inutile. Anche perché voi avreste i numeri per l'autonomia, quindi se guardiamo le iscrizioni. Noi per il momento abbiamo i numeri per l'autonomia, negli ultimi due o tre anni il Battisti non sta più perdendo iscritti, anzi c'è stata una leggera ripresa. Quindi adesso? Quindi adesso rimane come strada quella di far sentire la nostra voce presso la regione che ha poi la competenza definitiva per approvare questi piani che le province propongono alla regione, che poi la regione deve fare propria, sperando che in regione qualcuno ascolti le motivazioni.